Matteo Proietti, sabato il mister vi aveva chiesto una prova di maturità e voi gliel'avete data? Sì, ci aveva chiesto una partita importante di fare la prestazione e soprattutto le difficoltà che potevamo trovare erano quelle magari di sottovalutare l'avversario per quanto meno guardando la classifica, cosa che comunque si è riusciti a non fare e che dobbiamo continuare a non fare durante tutto l'anno perché ogni domenica sarà una battaglia. Questa settimana altra trasferta, finora giocare in trasferta o giocare in casa per voi è stato indifferente anzi forse alcune delle vostre prestazioni migliori le avete proprio messe in campo in trasferta cosa sarà insomma contro il Gianermini? Sarà una partita difficile come tutte quelle che ci aspettano, loro comunque sono partiti bene l'anno scorso era il primo campionato tra i professionisti e gli è servito un attimino anche per capire la categoria e quest'anno possono rivelarsi secondo me anche una delle squadre rivelazione.